Parlando italiano Hi everyone, my name is Elena, I teach Italian at Parlando italiano in school and today I'm going to talk about numbers. Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Vediamo ora le decine. We just saw 20 and then 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Come sformano i numeri allora? Vediamoli insieme. It's very easy. Si prendono le decine. Si prendono le decine, tens, e si uniscono alle unità, units. In questo caso 64, 64. Facciamo un altro esempio. Quaranta, sei. Quaranta, sei. Forti, six. Attenzione però. Quando l'unità è il numero uno, oppure il numero otto, non si legge quaranta uno e nemmeno quaranta otto, ma quarantuno e quarantotto. Ossia, le decine perdono la vocale con cui terminano. Ten, that is, tens lose their last vowel. Vediamo ora le centinaia e le migliaia. Cento, duecento, trecento, quattrocento, cinquecento, seicento, settecento, ottocento, novecento, mille. Attenzione, dal mille in poi si dirà due mila, tre mila, quattro mila e via così. I hope you enjoy this lessons about number and if you want to discover more about Italian language, you can visit our YouTube channel, My Italian Network, Parlando Italiano. A presto!